Coda gli uffici comunali per mettersi in regola. Stamattina c'era una fila di 20 persone, di cittadini cinesi e cittadini italiani, che venivano a regolarizzare la loro posizione. Io penso che se tutti noi veramente cominciassimo a rispettare le regole, non ci sarebbero tutti i problemi che ci sono in Italia. E l'esito dei controlli a tappeto effettuati Rossano Veneto, su iniziativa del sindaco Morena Martini per contrastare la presenza di clandestine attività abusive. Al setaccio il 90% della popolazione di origine cinese presente sul territorio comunale. Con l'esiguo numero delle forze di polizia che abbiamo nel nostro comune, sono riusciti a mettere insieme diverse forze, anche territoriali, e ad andare sicuri al bersaglio. Sappiamo che queste comunità lavorano, però devono lavorare seguendo le nostre leggi. Parlo alla testa di tutti e intendo che le regole che ci sono in Italia vengano rispettate da tutti indistintamente. Nei cappalloni controllati uno è risultato completamente abusivo, in uno a fronte di un residente ne sono stati trovati sette, in uno che risultava vuoto verificata la presenza di otto persone, di cui una clandestina. Per non parlare delle condizioni di sporcizia e degrado trovate non solo all'interno, ma anche nelle adiacenze, sacchetti di immondizie sparsi ovunque. Addirittura gli agenti della locale hanno appurato che per diminuire la quantità di immondizie diverso materiale veniva bruciato, plastica inclusa. E allora il sindaco si rivolge anche a quei rossanesi che affittano i cappannoni senza regolare i contratti. Questa è l'amarezza più grande, la cosa è ancora più grave, perché poi noi siamo i primi a lamentarci della clandestinità, ad alzare la barricate, ma siamo purtroppo anche i primi a non rispettare le leggi, a non comunicare all'autorità che abbiamo degli ospiti che non sono proprio regolari.